L'ambiente è 365 giorni all'anno a disposizione nostra perché noi usufruiamo con i nostri mezzi, con la nostra passione, andiamo nelle nostre montagne, nelle nostre salite, nelle nostre strade. Facendo questi giri ci siamo accorti che effettivamente l'ambiente aveva bisogno di un ripristino, di un ripristino necessario a causa di troppi rifiuti che si vedono lungo la strada. Per un giorno così 15 ciclisti castiglionesi hanno deciso di lasciare la bici in garage e muniti di guanti e sacchi hanno passato al setaccio le vie battute nelle loro uscite domenicali in gruppo. Una mattinata dedicata all'ambiente in una strada simbolo della scalata in bici, la provinciale della Foce. In circa tre ore sono stati raccolti oltre due quintali di rifiuti tra cui estentori, bombole di gas a vuote e reti per letti. Noi non vogliamo essere premiati o non vogliamo passare come noi. Noi vogliamo essere l'inizio di una catena di queste iniziative che spero che tutti i cittadini di Castiglione Fiorentino possano portare avanti in piccoli gruppi, in piccoli spazi del nostro paese, possano portare avanti questa iniziativa. E così facendo forse riusciremo ad avere un paese più pulito. La giornata ecologica dal titolo Ripuliamo la Foce è stata promossa dalla biblioteca del ciclista con il patrocinio del comune di Castiglione Fiorentino ed arriva a 15 giorni dall'installazione dei cartelli che invitano gli automobilisti a circolare con prudenza e a mantenere la distanza consigliata di almeno un metro e mezzo dal ciclista. Noi ciclisti stiamo sempre in mezzo alle strade, bisogna contribuire in prima persona e soprattutto bisogna rispettarsi. Noi dobbiamo rispettare gli automobilisti e gli automobilisti bisogna che abbiano un occhio di riguardo nei confronti di chi va in bici perché chi va in bici è sempre l'anello debole della catena.